io ho cominciato a occuparmi di audio di luci in parrocchia una delle caratteristiche di tutto il disco è di avere una potenza di calcolo sovrabbondante enorme anche i piccoli mixer come la S21 che è una traduzione abbastanza recente insomma ha due touchscreen con il pinch per cui tu puoi allargare e stringere una curva come si fa sui telefonini sai questo mestiere non lo puoi fare se non c'è passione e entusiasmo questa è gente che ci mette la testa, i muscoli, l'intelligenza, la forza, la fame la SD7 ha all'interno due mixer se non si guasta non te ne accorgi perché ci si accende un led ma lui passa all'altro un buon natale e un buon anno nuovo ecco a tutti quelli